Un po' di sughetto, ecco qua, dopo diamo anche i pomodolini, questa è così, sperando che siano gradevoli, abbiamo fatto solo tre perché abbiamo altre cose da mangiare. Un sughetto fatto fresco, fresco, con pomodorini, ciliegini siciliani, peperoncino, prezzemolo e olio di oliva e aglio. Ecco qua, mi sembra molto appetitoso, un piatto ruffiano, come usano questi termini i grandi chef. Godereccio. Ed ecco a voi, buon appetito e buona Pasqua.